eccoci signori e signori ce l'abbiamo qua ce l'abbiamo qua la mitica organizzatrice della serata della classe 98 di dove casnigo casnigo provincia di bergamo ok tu chi sei come ti chiami noemi di maio proprio nome e cognome perfetto ecco trovata troviamo su facebook facebook e instagram dove volete ok cioè perché sei single sono single felicemente single perfetto grava c'è anche il tifo questa che ti fa il tifo chi è presa è presente colombi francesca ecco cercate anche lei su instagram vieni abbracciala abbracciala eccola qua anche lei single anche lei felicemente sicuro no no felicemente ecco diciamo che a casnigo non c'è nessun ragazzo valido mi sembra allora siete qua al convento stasera alla ricerca di qualche ragazzo valido esatto ok quindi speriamo speriamo quindi tu rottamerai e aderisci alla campagna rottama un vecchio compagno di scuola ecco giusto esatto ecco quindi tu c'è di compagni di scuola rottamati della tua classe in cambio di nuovi principi azzurri ecco prossimamente di che classe del 98 va bene anche un po più grande basta che non abbia 30 anni ecco no no ecco quelli 30 anni siamo nei 20 25 brava quella fascia lì ok allora ma siete compagni di classe o c'è di scuola proprio sono loro sono loro sono quelli che questi qua sono tutti questi qua in piedi ecco allora gli urli di alzare le mani 98 sulle mani 98 di casnigo sulle mani vieni più vicina che non ti ha sentito dai ragazzi pronti pronti ragazze sulle mani 98 fatemi vedere ecco così abbiamo quello quello non è del 98 quello quello è ripetente mi sa di sì è perfetto è stato facciato due volte va bene allora cosa ti aspetti da questa serata di divertirmi molto con le tue amiche i tuoi amici e magari trovare il principi azzurri se volete vi volete tanto bene allora abbracciatevi un attimo se vi volete tanto bene fra di voi fra di voi eccole qua signori e signori la classe 98 di casnigo eccole qua ciao ragazze ciao ciao ragazzi